Arriva anche a termo una vita da social la campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e dei pericoli della rete rivolta ai minori. Le quattro giornate di campagna informativa dal 4 al 7 marzo sono state presentate dal questore Carmine Sorriente alla presenza del prefetto Luigi Savina, già vicecapo della Polizia di Stato e presidente uscente del premio nazionale Paolo Borsellino. È fondamentale, come ci hanno detto tutte le persone impegnate nella mafia, fare il salto. Ciò ha detto Paolo Borsellino quando parlava di dire ai ragazzi di far prevalere il fresco profumo di libertà rispetto al puzzo del compromesso. Questo argomento, peraltro, che tratteremo oggi ancora è di grande attualità e crea diversi problemi. In tutto il mondo, in America, si parla della problematica dei social e i dati dimostrano grande preoccupazione. Il track tecnologico della Polizia farà tappa in Piazza Martiri della Libertà, diventando un punto di riferimento per la sensibilizzazione dei giovani sull'utilizzo sicuro e responsabile di Internet. La Polizia di Stato affronta temi scottanti come il cyberbullismo, l'adescamento online, l'estorsione sessuale e i rischi legati all'uso delle piattaforme social e di Internet in generale, inclusi gli acquisti e le transazioni online. L'intervento in via di prevenzione del track della Polizia Postale, la capacità di parlare con i giovani giovanissimi, dire che è bello stare sui social ma ci vuole un uso corretto dei social. E su questo il premio Borsellino non può che ringraziare la questura di Teramo, non può che ringraziare la Polizia Postale, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che consentono al premio Borsellino di partecipare a queste progettualità.